Eccoci tornati su Resident Evil Outbreak, oggi siamo fino all'ultimo capitolo Oggi siamo fino? Cosa significa? Eh, siamo fino all'ultimo, comunque stiamo registrando End of the Road e iniziamo subito Ah, finalmente sono tornato con Simbi, vai, non perdere tempo Non c'è il mio disc Prendigli, vabbè va, fammi andare con lui perché sennò non ti prende le cose Minchia che palle Ah, perché già ti conosco Fammi indovinare, uno, due, tre Dai No, 468 Come l'asino cotto Giorgio 468, e ricordiamoci Siamo mangiando lo sport Vabbè Grazie, lanciagranate, mannaggia Claudio No, no Ma cosa ho fatto di male? Non ho capito, le prendiamo dopo, li passiamo di lì Mamma mia, Dio stronzo Capizzi? L'hai presa tu la chiave? Dove sei? Ok, allora Sono dentro una stanza Ecco, visto? Non ti aveva preso la recovery medicine L'MO disk l'hai presa tu? Senti, senti No, non so dove cazzo è l'MO disk Vicente, non esplorare Eh, poi ci ritroviamo senza il'MO disk Taracqui da Linda No, l'ho preso io Oh, allora fottiti, Alessà Che cazzo fai? Mi trolli? Eh, eh? Eccomi, eccomi Ciao, bellissimi Siete proprio qui 648 era il coso No, 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 no Eh, dai, però, cazzo Chiarola Sindy Non c'è la prima camera Quanto era il codice? 468, giusto? Sì Sì, 488 Che palle, non c'è neanche una bottiglia grigia, Dio ZITTO Barbavietola No, 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 no Eh, dai La mia, se mi colpiva, eh Eh, la schivata Usala Ho visto una schivata Ma che cazzo non mi riteficiente di un... Ti lascio la riguove di sotto Oh, Linda Ma te levi C'è stato io a farla 864 Ci sono bottiglie, eh Dai, devo capire L'oggetto speciale Maledizione Un attimo che mi collego alla batteria Perché va troppo lento L'hai aperta entrambe, là? Sì, no, no, ne ho aperta una Sono già nella stanza dei laser Vai, aspetta Ah, non ho tu... Qual è il codice? 864 Vabbè, io gli vado a attivare... A disattivare il laser Tu apri... Non ho sentito 864 Io vado a disattivare i cosi Il laser a Claudio Eh, tanto io però già i hunter di sopra Vai Oh, senti, non darmi ordini, eh Pistola Ti sperisco in Molise, dove non esiste Sì, ma tu le tristi Ti ha colpito? No, peccato Hai trovato la pistola, G? Sì Io ho paura di uscire dall'altra parte Perché? Perché mi segue Oh, che cazzo è sto coso? Mi sono visto un hunter rivolare davanti Un piano, uno stuntman Vai, che ti fanno da mortale Sprivigati Sei lento, sei lento Ma tu sei lento Ecco, mi si aprono finestre Ovviamente mi rallentano Il gioco Sei più lento che con me non è ora GIOORGE 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 Che problemi hai? Dimmelo Anche tu hai dei problemi, ma mentali Stavo parlando con me, però va bene Se ti senti colpito in causa, va bene No, stavo parlando con lui Ma perché ti fermi, Eiji? Che no, mi fermo Vado, è inutile che fai amanti tu Ce l'ho io le modis No No Dammi sto cazzo Tieni, prendi queste Grazie, amore mio Ciao Dopo però me la dai, eh? No Come no? Non sei il mio tipo, mi dispiace Troia di merda Qui ci saranno le munizioni della pistola Prendi, leggi È bello dare ordini, vero? Proprio Bellissimo La smetti di scendere con le spallate Mamma mia quanto sei ritardato Anche tu sei ritardato, ma non te lo dico il faccio Lascia, mi le Eh, beh Cazzo, riti Mi faccia la mortale Ti giuro, non smetto di registrare Mi finisco il capitolo da solo Ma stai zitto che tu sei un tippone Mi dice quello che non ho mai preso Rungo S in questo livello Va bene, anch'io quello Hai finito di seguirmi, stalker di merda Che cosa vuoi tu dalla mia vita che non hai neanche le M.O.Disc Quindi cosa vuoi, blocca la porta e non far entrare Hunter Prenditi utile in questo Ma come non c'ho le M.O.Disc Pensate che l'ho giudato Ma che cosa ha fatto? Ti ho trattato le bottiglie chimiche, rincoglionito Ma sei un figlio di stronza Adesso ti faccio morire qua Porta lì la recovery a Jimmy Hai preso la pistola? Che cosa hai lasciato? Accendino Noi facciamo le malodanno Mi aveva guardato di merda Pensavo che mi aveva dato il coso Ma infatti vedevo che mi seguiva Ma che cazzo vuole che mi segua? Perché non hai preso l'erba? Eh, perché non hai preso l'erba? Oddio mi sono salvato per un pelo Perché ci sono troppi Hunter Mamma mia Oh ma la smettete Ma che cazzo volete? Oh ma Dio cane Ma quanti cazzo Minchia me l'ha ficcato nessuno Stanno con me Oddio mio Oh che cazzo vuoi George di merda? Ancora non sei morto Perché sentino sbattere la porta? Guarda che sono più veloce di te Dai le recovery a Jimmy No no io le do No tieni Jimmy Scherzavo ti volevo bene una volta Jimmy Jimmy Parla quando sei interpellato No Come no? Allora non ti do le recovery Me le tengo io Me le fucchio Tieni Ma io non lo volevo lo spray Adesso lo butto No ho spregato una chiave in inglese Non le spregare Colore Oh ma vai a chiedere l'emosina a quello? Sai Fondare la porta L'emosina Carter Minchia Carter Carterino Minchia Una cartella Ma le lemosina a chi scusa? Carter Oh perché sei uscito prima tu? Cos'è sta mafia? La mafia Stai andando avanti voi Iron pipe C'è nulla qui Nulla Perché non dicevo Powerful 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 Niente No c'è il tyrant che mi segue C'è un'erba blu Prendetela eh Cioè se proprio volete prendela Poi se non volete prendela Mi fotterebbe le palle Beh che No Oh Cazzo di un tyrant di merda E' aperto la La sto aprendo Ok Ok 4 Le servono Jimmy Prendi le inizioni Ah le prendi tu Jimmy Cazzo Ma le C'è tante ganne lunga ne va La pistola VAIA Ma che cazzo No 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 Sono bloccati Sono in mezzo No Dai ma che cazzo Dai ma ammazzato Sei morto Ma porco dio No Sono vivo Ma minchia Ma ha riuscito uno davanti E uno dietro Ma dio cane Basta Chi mi va a curare La voglio io La voglio ottenere io Dai Io utilizzo lo spray E se no Qualcuno mi cura O utilizzo lo spray Aspetta che arrivo Minchia che palle Bug di merda Uno davanti Uno dietro Minchia che new bang Dove sei? Sono fuori Ok esco Ok esco Visto sei quello che fa spiegare il più cuore di tutti visto? Io volevo farmi la collezione di ricordi di me Fammi questo intanto che fai Sbrigati non lo curare sti cazzi può morire Ma io volevo andare io Vabbè Vabbè vai tu vai tu Allora Andiamo insieme Eh Senti che l'audio fa Comparire in Tyran Perché non mi Eh appunto Ottimo Ciao Tyran È proprio stupido Ma se non ho spazio come faccio a prenderlo Odio Khan Il Khan è quello di Mortal Kombat Lo sai No ma io lo odio perché mi fa editare Cioè Ma puoi aiutare che prendiamo il laccio granato E qualche miseria Sei un coglione Non fa lecicare Spero muoio No 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 cazzo 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 Ok no Ok Guarda se c'è qualche bottiglia o qualche cosa Ah erba Perché urla Senti quando ti chiamo Oh perché è spaventata E poi All'urla troiella Sai gli strani Oh lì c'è la recovery E' sopra Ma come sa vederla Io non ho visto Cioè hai occhio eh Ci conviene uscire Perché se no Ci ritroviamo al Tyrant Per strada Intanto ce lo ritroviamo ugualmente Vabbè però Tipico Sempre meglio Verso Stanto Qui non c'è ancora Forza Oh 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 Oddio Che cosa ci fa Claudio Infatti Ma sta porta io non ho mai capito Cosa c'è No 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 Jimmy's Briggery che c'è il Tyrant Ce l'hai davanti Ok Ma baciami il culo Ora sono a fare i tuoi Ma sono dietro i te che cazzo Ah bravo Non tu mi devo Ho detto baciami il culo pure al Tyrant Non a te Coglione Ti senti che colpite in causa pure tu Come Claudio Che cazzo porti il fazzoletto Butta Che sta schifo Ma pensai ci fosse il coso Lo sfrattavi Ti vedo Oh io Eh sì l'ho buttato per prenderlo io Erba Se la vuoi prenderlo la prendo io Vabbè La vediamo Andiamo in una zona sicura ora Andiamo in una zona sicura ora Credo è un'erba No Non ho capito è un'erba Ha trovato l'erba acquaggi? No 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 Mi senti... Ma la vuoi? Thank you Quanto stai di virus? Io 11.80 Ti giuro Spero che ti dà un gran pugno Il Tyrant adesso Ho finito di portare sfiga Giorgio Ci sta aspettando l'audio, ho paura Proprio un millimetro prima che compaia il Tyrant Ora non commenta su Linda, gli so Vai, vai No, non ci vado Ciao Claudio, le chiavi in inglese Ma come? Non si è stunnato Non si è stunnato Perché non si toglie Attento G Ma non mi fa passare, dai Non si stunna Non si stunna più Sono passato, sono passato, via, 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 via No, hai buggato, non si stunna Ma perché è già a danger Giorgio senza essere messo con... Non mi ha manco usato l'erba, siamo pazzi Cioè ho usato l'erba sempre a danger Eh, perché l'erba verde è fortissima Almeno a caution Non a danger No, no, a volte li lascio a danger A terra Claudio, aiutalo Ho finito le chiavi inglesi Come cazzo faccio? Rialzalo, è usato il lanciagranate Ma non ce l'ho io il lanciagranate Rialza Jimmy Sì, ma se come io devo scappare questa cosa Ma, ma pure il lanciagranate Sì, mi piace una cosa Ti do ora la pistola, alcol, le capsule e mi curi Tieni, basta e fai gli R1 e mi miri direttamente a me Scusate, dove siete? Tu intanto vai a spostare Eh no, io sono andato, lo squish bomb non c'è qua Ok, grazie Ma è lento, si deve spostare Andiamo, andiamo, andiamo Cioè, dai, minchia, si è pagato pure il Tyrant Dio cane, io ho sparato sette chiavi inglesi e non si è stunnato Ma vaffanculo Gioco di merda, schifoso, cata Esatto Le parole che hai detto Le penso pure io Che cazzo, lo stunniamo sempre, no? Stavolta, no, non mi stunno perché sono... G, ma quanto sei dei virus? Vabbè, no, me le ho bloccate perché ho usato l'erta verde prima Ah, ok, quindi? Sei, ah? 12 C'è niente qua, regolari altro, no? C'è niente qua, ne spostiamo, così, breve, direttamente Mh, mh G, prendilo, eh, completamente Lascia la G, eh, non le do il mio dopo, io le do il mio dopo Se mi vuoi salire Giuro che se c'è il... Ops, aspetta Vabbè, puoi scendere, non c'è il... Vabbè, puoi scendere, non c'è il... Comunque per evitare che ti colpiscano I zombie basta di fare soltanto X senza che sia quella freccetta Perché sale tu vadimenti da solo e... Sì, lo so Io so che ho fatto così Oh, Cindy Vai subito in fondo, nelle macerie Sì, però qualcuno li deve tenere fermi, eh Sì, no, siamo qua Ah, shotgun Non c'è lo switchbomb qua Ok, allora lo switchbomb è... O è sotto, o se no... O se no lì, nell'acqua Guarda se appena esci, trovi qualcosa in fondo, sblocca la porta Aspetta Sto cercando dentro la stanza se c'è qualcosa di utile Ma porco Dio, ragno di merda Muore tua madre, la tarantola Non c'è nulla qua dentro Ok Thank you Cla, dove sei tu intanto? Io sto già andando a vedere se c'è lo switchbomb Ah, ok, ok No, venite qua No, non stanno seguendo Sì Senti, senti, senti Provate, switchbomb Vabbè, vai, vai, scendi Non è entrato nulla No, porco Dio, vincchia, si sono alzati due zombie Non è entrato nulla No Oh, cazzo, il Tyrant Ancora fa, eh Aspetta, eh Ma che? Vabbè Ne è comparso dal nulla Non c'è l'altro scherzo Quanti dove va a dire? Ora Bravo In ordine, dobbiamo sapere Non ci pensare minimamente Ah, c'è un, c'è una recovery dentro al C'è una recovery, Jimmy, sotto La prende direttamente d'acqua sopra Ah, non lo sapevo Ah, spawnato un altro zombie Dove che non lo vedo? Eh, calli Non mi capisco, la gardia Vieni, Jimmy Eh, da me va a scapito zombie Da dove c'è voi dietro, a di noi mi spalla davanti C'è qualcosa? Ci siete? L'avete trovata Sì? Tutto pagato, in sto gioco Sì 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 Claudio Voglio dire che sia Ah, possiamo, no, guardarà qua è pericoloso No Quei ti curi Boh, come vuoi, sparammi una pasticca Ma che c... Ho colto le palle sta lag No, non mi hai beccato Fermo Ok, ora sì Grazie l'animo e' a sinistra sei andato? si ci sono munizioni acide del lancio granate ma non serve prenderle noi prendiamole, non si sa mai Claudio guarda lui già si è buttato poi si la mette se moriamo contro il boss finale no che non prende ma no la munizione del fucile non le posso portare tieni G prendi tu lo spray vabbè butto l'aeron pipe si ma lì dovrebbe esserci una recovery eh ma c'è una cosa la uso perchè sono ma non la potevi combinare vabbè però io dico sono grave ma cosa? ma che vuoi? ok si c'è l'ultimo ok Glau vai linda linda svegliati svegliati è mattina devi andare a scuola a rompermi il cazzo eh 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 sembrava ma che cazzo c'è? un fucile? ah no no sembrava un fucile bravo no ma tu hai la pistola? si ce l'ho io la pistola ah vieni qua si vieni sopra facciamo prima eh l'erba è blu? io l'erba blu ce l'ho piena eh dico dammile così faccio le cose perché non sempre le ne ho più qua eh non posso uscirle uscirle cosa cosa cosa? basta che cambi l'erba blu da per terra e te le fa uscire tutte ma l'ha già presa Jimmy che ne ha boi insieme che la prende Linda? thank you tu Jimmy? ma allora laggiù c'è pure una mina da qualche so ci penso io alle mine una l'ho già fatta fuori bravo è forte wow oh porco dio telecamera di merda non posso andare qui dietro perché che prende la Linda? l'ho fatta già saltare in aria Nob l'hai fatta saltare pure in aria l'altra Nabbo no è qua infatti è quello che stavo dicendo poi ci sono Nob oh perchè non esplode grigia fuori dalle poline ma perchè non esplode? Nabbo devi andare avanti oh minchia ci voleva tanto per una mina ti stai zitto ti spai sei insopportabile Claudio come? non ho capito sei insopportabile quando devi fare il stesso putello anche tu sei insopportabile però ti voglio bene lo stesso c'è la soldier icefall qua eh dillo a lui che se ne va avanti io adesso cosa butto per prenderlo? eh io c'ho l'inventario pieno di che cosa? cosa vede l'inventario? dillo porco dio non vedo stamina di merda non la vedo non la vedo non la vedo la mina io giuro stile da terra no aspetta 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 butto io insieme il fucile inchia non la vedo e non riesco a prenderla perchè è il fucile? perchè dato non ci facciamo niente quella doppietta vabbè si che la dobbiamo pure sove perciò l'altra mina dove cazzo è? oh linda ma che cazzo vai portala tu guarda giù da dai perché io devo farmi col cecchino e mi colpisce ma guarda se sei veloce non ti colpisce no appunto la velocità con eletto e giorgio pure eletto il cuore non avevo la cosa bene contatto ma ok 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 provaci tecnici dov'è l'inca chiuso portatela sono rotto le scatole di portata Oh Verba Oh 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 Grazie 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 No no carl su maschile 4 quando sei ragazzo per i neri del indato che questa anche in carriera la prende il è grazie portare il video perché ci sono le mine se c'è lì per farla 45 auto mh va beh fa arrivare lo zombie intanto non lo fa esplodere ehm mamma ma che cosa la sinistra alessandro preso il l'rpg si rocca lancia e mi troppo canciato lo volevo colpire che stancho grazie ci sono le mine messe ovunque posizionate prendi la mia spalla ora qua è venuta lo zombie eh chi è me l'apri tu? vabbè si è pagato lo zombie c'è la submachine al dentro? ma cla molto cla non c'è linda non c'è linda non c'è linda non c'è linda dove è 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 linda ah ma è qua ti giuro lo odio lo odio anch'io ti odio appena sono entrato ho visto che se la stava trasportando in mezzo al corridoio ti ha trollato alla grande vabbè vieni 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 perché sopra sull'aereo sull'elicottero david mi dai quel cavolo di caricatore? vieni mi devi dire grazie però lasso fare for questo dimmi grazie eh odditi la submachine gun ma infatti te l'ho detto mi chiamata quando parlo qualcuno mi ascolta si prova l'assault rifle e dov'è il caricatore dell'assault? ah un po' non ce la faremo deciderlo bene non è una novità no ecco grazie 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 Kla, usa in casa le bottiglie chimiche eh certo per gli zon G mettiti le esplosive tu non quelle corrosive di gra i maleacide anche faccio più male al coso? boss secondo me no no le esplosive fanno più male al boss Eh, però sai, è vero che ci sono tantissime acide in mezzo al livello. Oppure prima della post-fight, guarda caso, qua le hanno messe, perciò. La tua lì vede da lì che poi gli casca la porta in testa? Aaaaaah! How do you feel? Cioè, i gioi di 360 gradi non lo fanno in questo gioco. Stai velocizzando la cosa? No. Ah, ecco perché. Tu quanto sei? 35. Ma perché stai lì davanti alla porta? Come mai è 35? Io sono a 10 secondi. Stima ti levita la porta. Guarda se ti casca in testa la porta. No, è impossibile, sono... Ti fa danno! Ti afferra comunque. Ma dov'è lì? Sei un culo gigante. No, l'elicottero è partito. Boh, abbiamo perso. Restartiamo. Tanto ci sarà la lag che non ti farà uccidere il boss finale, perciò stai zitto. Vai! Dov'è l'Inda? Dov'è l'Inda? Ecco. Il rasta? Liscio! Lo zombie è chiamato in sto gioco. Aiuto, sta rialzando. Sta rialzando. Tanto va, quello zombie è nabbo, va dall'altra parte. Perché è stupido come la merda. Utilizza il bastone elettrico, vale. Ti chiamo a Claudio? Ti stai zitto? No, no, l'elettrico, penso che mi possa servirci contro il coso perché è lo stun, appunto. E sentite con questo stun, cosa significa stun? Come? Significa che diventi stupido. Stun. Significa che diventi che l'audio. Non stai calmo. Cioè, puoi dire? Dov'è l'Inda? Ecco, ti vinta. Muami! Well, I never. Insieme alla pistola. Porco Dio, ma perché non spari deficiente di merda? Uccidetele! Thank you. No, cazzo. Alessandro, spara! Vai, stai là anche di qualche cosa, vai, uccidili! Muori, Laura, muori! Tu come cazzo, sono degli anni? Ma porco Dio! Dio, stronzo, merda! Intartarato! E questa bocce di manesecca, Linda. È entrata. Mi sembra, eh. Ok, sì. Sì. Sì, ho visto perché preco l'erba. Guarda, la capura! Equipaggiamoci. Dov'è mettere le acido e le Burst? Chi è che vuole il Lord Bomb Switch? Lo utilizzo io, allora. Oh, cazzo, cazzo, cazzo. Aiutala! No, la volevo far cadere. Ehi, mi cado mentre ho saltato. Ho fatto una roba strana. Hai finito di cadere due volte? Jimmy cade sempre due volte. Lug, non è che... Dai, lo uso io il Bomb Switch. Voi sparate a volontà come dei puttanieri. Come un puttaniere che spara? Dai, dai, boss di merda, vieni che ti facciamo il culo! Perché ti apriamo le mutande in due. Madonna! Gim, là ci sono le posizioni del lanciagranate. Eh, ho capito, ma ora sei un cazzo... Eh, appunto, non è che dai il tempo, grazie. Io non so come te che dormo. Che quanta natura del cazzo pure tu, eh. Visto? Non è morto. Porco Dio, grazie, Alex. Lei, l'avete ammazzato nel momento in cui mi stava arrivando una cosa in testa? Non capisco perché dei bestemmi erano i cazzo. No, lasciateli da me, la voglio prendere. No, 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 la voglio io, la voglio io. Fatemi. È mia, è la mia fidanzata, è la mia fidanzata. Minchia, non sto a ricarriarmela per tutto il tempo. Questa stanza di merda ipocrisi. È mia? Dai, non mi fa scendere. Ma perché a me mi ha fatto fare il salto? La cosa. Dai, sentiamo anche con l'inda. No? Ti ho visto che ho preso la lancia granate. Ah no, la pistola. Dai, hai finito di curarmi. Io ti uso lo bomba switch. Ahia! Dai, adesso attivo la bomba dentro di te. Senti, ti lenta al cazzo da sparare lenta. Ahia! Andiamo luce insieme. Ahia! Ahia! Cacca c**o! finito perché da me non c'è l'audio e perché non mi fa saltare perché mi sto guardando il filmato vabbè il filmato di fine gioco almeno lo lasciavo no non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo capitolo è stato completato. Dio porco con rank B.